Adesso parliamo un attimino anche di Capodanno perché c'è una proposta di Capodanno a Londra Sicuramente tra i più interessanti Da intendere però in senso stretto, cioè come primo giorno dell'anno Quindi se sarete da quelle parti Attenzione perché come sempre c'è un evento molto bello a Londra Perché alle 12 parte la London New Year's Parade Che è la sfilata colorata e musicale giunta tra l'altro quest'anno al 25esimo anniversario La partenza è a Piccadilly Street di fronte all'Hotel Reeds L'arrivo in Parliament Square Oltre alla parata c'è un programma di concerti che vanno dal 29 dicembre al 3 gennaio Quindi magari qualcuno potrebbe anche decidere di fare un saltino In questo caso è necessario però acquistare un biglietto che costa 10 sterline La parata invece è ovviamente gratis Basta stare in strada e svegliarsi in tempo per vederla Giusto quello Però se volete stare nel Grand Stand di Piccadilly Circus Anche qui c'è un biglietto da 19 sterline e 12